Buongiorno a tutti. Si è appena conclusa la partita Juve-Milan di Coppa Italia e la Juve ha praticamente asfaltato il Milan, perché dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, e direi anche noioso perché mi sono mezzo abbioccato, nella ripresa pronti via dopo dieci minuti la Juve passa in vantaggio con Begnatia che sfrutta un calcio d'angolo, piantato in mezzo all'aria solo Soletto, non deve neanche saltare, fa solo così e la mette all'incrocio, 1-0. Ci si aspetta la reazione del Milan, invece arriva al secondo gol, tiro di Douglas Costa, Donnarumma si tuffa, se lo fa sfuggire e la palla termina in rete, 2-0. Poi non contento, perché giustamente cima a bue, cima a bue, colpo di testa di Mandzukic, lui bello fresco in mezzo all'aria, pensa di essere da solo, cosa fa? Stoppa il pallone e lo lascia cadere a terra, lo lascia cadere a terra, Benatia è lestissimo e cosa fa? Gli lo butta dentro, lui prova a tuffarsi per chi uno, vedi proprio che Benatia lo anticipa e il pallone gli passa in mezzo, 3-0. Poi giustamente, per non farsi mancare nulla, cosa succede? Che Kalinic una volta tanto ha fatto gol. Signori, Kalinic ha fatto gol, un bellissimo gol di testa ad anticipare anche il portiere, peccato che il portiere è la donna Rumma, quindi 4-0, 8 gol di Kalinic, per la felicità dei tanti milanisti che non lo possono vedere e non vedono l'ora che se ne vada, quindi ahimè per il Milan, quindi i juventini felicissimi, hanno fatto la loro doppietta italiana, come sempre, perché le doppiette italiane le fanno sempre, poi quando vanno in Europa fanno le triplette le altre squadre, è successo. È questione di DNA, ve l'ho già detto, la Juventus la prima volta che giocò la Champions League uscì eliminata dall'Armiravaker 7-1, il buongiorno si vede dal mattino. L'Inter quando ha giocato la prima volta in Champions League l'ha portata a casa, il Milan quando ha giocato la prima volta in Champions League l'ha portata a casa, quindi purtroppo è questione di DNA, loro sono fortissimi in Italia, nulla da eccepire, poi qualcuno dice che per motivi estracalcistici, come si è anche dimostrato, ci mancherebbe, poi loro invece dicono ah no assolutamente noi siamo fortissimi, non è motivo estracalcistico, comunque ennesima doppietta, tennesimo record italiano, tutto bello, tutto stupendo, nulla da eccepire, oggi non c'è stata gara, poi se te gli regali, è l'anno dei regali, in Champions League fanno i regali le squadre, perché le due Champions sono state regali del Bayern Monaco e della Roma, anche se bisogna dire l'arbitraggio di Roma-Liverpool ha lasciato molto, ma molto, ma molto e direi ancora molto a desiderare, e direi che anche l'arbitraggio di Bayern Monaco, di Real Bayern Monaco, anche lì ha lasciato a desiderare, oltre ai regali che le due squadre, sia la Roma che il Bayern hanno fatto, nella gara sia di andata che di ritorno, quindi diciamo che è un susseguirsi, però ripeto, stasera non c'era nulla da eccepire, è un 4-0 che non lascia adito alla possibilità di dire è però, è però, è però. Quello che non capisco è come mai una Juve che ha bisogno di giocare 80 minuti contro l'Inter con l'uomo in più e rischia di perdere per riuscire poi a vincere, anche grazie agli errori che ha fatto Spalletti nei cambi, ma ripeto, per me l'Inter ormai non ne aveva più, anche se ne avesse fatto dei cambi diversi, credo che non sarebbe cambiato nulla, a parte il nostro portiere che come al solito è fortissimo tra i pali, ma non sa uscire, non sa uscire, c'è poco da... Ogni giocatore ha pregi e difetti, mi sembra come quei libricini che si compravano una volta in cui interagisci con il libro, quindi ti dice cosa compri, allora potevi scegliere il portiere fortissimo, l'attaccante fortissimo, il centrocampista fortissimo, il difensore fortissimo. Poi successivamente, sempre nei quattro ruoli, quello bravo, quello così così e quello scarso, quindi uno un giocatore l'avevi scarso, uno ce l'avevi fortissimo, uno così così e uno normale per dire. In base a quello poi si... ecco, e qua è uguale, ci sono giocatori che hanno ognuno delle caratteristiche e c'è il portiere che è bravissimo tra i pali ma non sa uscire, c'è il portiere che ti fa tre miracoli e tre pa per la partita, ogni riferimento è puramente voluto, c'è l'attaccante che non segna mai e quando segna ti segna nella tua porta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi stasera non c'è stata gara nel secondo tempo, però non ripeto, non capisco com'è possibile che una Juve che fa fatica a battere un Inter in dieci, eccetera, eccetera, e poi mi batta così nettamente un Milan che alla fine della fiera contro l'Inter, vabbè, sbagli di cardi a parte, ma male che andava finiva 1-0, non è che finiva 8-0, e non vedevo questa grossa differenza. Quindi o è il Milan che è troppo scarso, o è l'Inter che è diventata fortissima, perché qua non si scappa, cioè queste differenze si sono notate stasera. Purtroppo mi spiace per il mio collega bravissimo, chiamarlo collega è quasi eccessivo, visto che lui è molto bravo, Gianmarco Cirulli che era a Roma a vedere la partita, mi spiace per qualche altro amico qua del lago che era a Roma a vedere la partita, milanista naturalmente, perché praticamente si sono sobbarcati 600 chilometri, forse anche 700, per andare a vederla, hanno speso quello che hanno speso per avere il biglietto, e vedere una, e fare una figura così barbina non lo meritavano, però così è il calcio. Niente da dire, 4-0, ripeto, ineccepibile, doppietta italiana, ma ripeto, non mi stupisco più di nulla, siamo abituati, non vedo perché gli giuventini debbano essere esaltati, negli anni 50 hanno vinto, se non ero cinque scudetti di fila, negli anni 70 uguale, contrapattoni, poi possiamo dire avevano la squadra più forte, erano tra le più forti, ma c'era l'arbitraggio, però loro vincono, è una questione di blasone, è una questione di DNA, come vincono in Italia, non vincono in Europa. Il Milan vince in Europa, grazie al Berlusca, naturalmente, che gli ha costruito la squadra per vincere, l'Inter ogni tanto vince anche in Europa, e quando vince in Italia fa sempre dei record, vedi il campionato 88-89, e vedi il campionato 2006-2007, e loro vincono in Italia, e stop, se pensiamo che negli ultimi quattro anni, uno poteva, o cinque anni, sette anni, uno poteva tranquillamente giocarsi 200 mila euro sulla vittoria del campionato della Juve, della non-vittoria in Champions della Juve, 200 mila euro, portavi a casa 50 mila euro, a botta, era come giocare al Super Enalotto il giorno dopo, cioè, non è normale, purtroppo è così, è nel DNA, è questione di DNA, è questione di, hanno vinto, giusto? Hanno la squadra più forte, giusto? Ci sono stati degli armi, ripeto, quando sento dire, ma sono stati aiutati dagli armi, ma nel periodo di Moji, quello che è successo quest'anno, non so, capitava in una partita, non in tutto il campionato, quest'anno è andata ancora bene, rispetto a certi periodi, è andata ancora bene, quindi io non mi lamento, non dico nulla, a parte del fatto che comunque, come ho già detto, hanno una panchina che rispetta il resto della Serie A, è nettamente superiore, poi che globalmente, rispetto alle prime cinque del campionato, loro non sono così più forti, si nota, però quando possono, devono sostituire qualcuno, loro hanno dei fiori giocatori che possono sostituire tranquillamente il giocatore che non può giocare, e altre squadre invece, devono fare di necessità virtù e quindi perdono quel qualcosina in più ed è quello il gap che bisogna parificare se si vuole un attimino, dargli un pochettino più fastidio di quello che già comunque quest'anno gli ha già dato il NAP, però stasera non c'è nulla da dire, vittoria ineccepibile e ripeto, non so se sono loro che sono ritornati a essere forti o che il Milan, che ahimè, è un po' scarsetto, non lo so, anche perché comunque quattro gol, uno più ridicolo dell'altro, allora, il primo gol, come ho già detto, Benatiano deve neanche saltare, si deve quasi incupire per colpirla di testa da solo, perché gli altri, i difensori del Milan, lo guardano, il secondo gol, vabbè, è una vaccata di, scusate l'espressione di Donna Roma, che ahimè, ha fatto tre, quattro belle parate e poi dopo mi fa queste cose qua, quindi sono abbastanza inutili, il terzo gol, è un'altra papperata del portiere, perché non puoi con l'area affollata stare lì a stoppare la palla e lasciarla cadere a terra, non puoi, non puoi, non puoi, se non sei sicuro della presa, mettila in calcio d'angolo, non puoi pensare di farla rimbalzare a terra e poi riprenderla, come se niente fosse, e poi vabbè, il quarto gol è sfortuna, perché Calini ci è andato per prenderla di testa bene, invece l'ha spizzata e l'ha messa nella porta del portiere, quindi regali e c'è poco da fare. Mi spiace anche per Gattuso, perché non meritava un passivo del genere e mi auguro che non lo caccino, perché temo che a fine campionato possano decidere di non andare avanti con Gattuso e rischiare qualche altro allonatore. Poi vedremo che mercato riuscirà a fare il Milan, proprio perché essendo sotto sanzioni io leggevo i nomi che vogliono prendere, se comprano effettivamente quei 6-7 nomi che ho visto fanno una bella squadretta. Il problema è che i giornalisti che erano lì, naturalmente era Tele Lombardia, hanno aggiunto e probabilmente ne prenderanno due di questi, ecco, con due di questi non andate da nessuna parte, anche perché comunque sento parlare di far partire Suso, sento parlare di far partire Donnarumma e magari è un bene, perché se non lo vendono bene fanno solo un affare, arriverà Rena che comunque è un portiere buono, non è eccezionale, ma comunque è un buon portiere, però se partono quelli e ne arrivano un paio serve a poco, però vedremo cosa succederà nel mercato, adesso però il Milan è a grosso rischio perché domenica c'è Atalanta-Milan e poi hanno Milan-Fiorentina e la Fiorentina è lì, Fiorentina-Cagliari teoricamente la Fiorentina potrebbe arrivare a 60 e Atalanta-Milan se Milan riesce a pareggiare a Bergamo va a 61 quindi gli può bastare il pareggio con la Fiorentina ma questo Milan contro la Fiorentina in casa rischia francamente poi magari vincerà e magari sono contenti di non andare in Europa lì proprio perché comunque devono fare il preliminare e tutto quanto vorrebbe dire rovinare la stagione eccetera potrebbero decidere di scansarsi come si suol dire e non andare in Europa e sfruttare il fatto che non hanno le coppe per puntare l'anno prossimo al quarto posto ma devono anche rinforzarsi parecchio però ripeto bella partita per la Juve stasera per il Milan è stata veramente una via crucis tremenda e vedremo cosa combineranno domenica con l'Atalanta ciao ciao